Salve a tutti e benvenuti perché sono così felice se stanto so che perderò in questo 46esimo episodio di FIFA Carriera Allenatore Mancano Mayuca, Anderson e chi più ne ha più ne metta Malaga contro il Raio Vallecano Io ormai non so più cosa dirvi sinceramente Queste sono le ultime quattro partite della stagione E l'ultima sarà contro il Barcellona Quindi dobbiamo puntarla a vincere tutte e tre queste qua Ha già perso palla, grande! Non posso permettermi di perdere Non riescono a controllare una palla D'altronde come al solito guardali, ma guardali, ma guardali Arizala, Arizala la mette, la mette Eh, papapabacar, papapabacar 1-0, tutto uno schema all'undicesimo Il vero acquisto insieme a quello di Mayuca che ha cambiato la storia Ok, non è fuori gioco, non è fuori gioco E' contropide, e' contropide Papapabacar No, era Arizala Toggo tutto, non ho detto niente 2-0, sedicesimo Forse hai imparato a giocare? Vabbè, contro il Vallecane tutti vincono contro il Vallecane Adesso perdo 5-2 Non devo più parlare, faccio solo gufate Faccio solo gufate E' una cosa allucinante In teoria o dovrei arrivare quinto o dovrei arrivare sesto Perché mi hanno detto qualificati all'Europa League Ok, sesto, quinto posto Va bene, anche quarto Però, bè, porca Uuuuh E finisce il primo tempo su putteggi di 2-0 Bella 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 Papababacar la mette per Arizala Uuuuh Antus batte il calcio Ancora per Papababacar Ancora lui 3-0 Il bello è che mi do la scantata alla fine io Ok Ok Camacho come l'ha giocata Bellissima Ale Arizala Non ho mai giocato così E ora devo giocare così 4-0 Ma sti sogni dove li facciamo? A voi sembra facile perché vedete tutti i gol Ma non è facile per niente Madò Porca di quella, porca di quella Eccolo qui Uuuuh Papababacar Wow 5-1 sto vincendo Ma siamo seri E vinciamo 5-1 Siamo al sesto posto pari Malaga contro Villareal E si parte Camacho la mette per Castiglio 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 La pala E la parte Nooo E' rimbalzata male Ma non è mai preso Papababacar Ma perché? Bella Bellissima Vace Arizala 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 1-0 Al trentesimo Sto giocando in una maniera superba Lo dico me stesso Scambi di palla Tutte queste cose che prima non si erano viste Adesso si vedono Alla fine Come sempre Come questa azione Il pallone è lì Che cacchio Scusatemi se parlo poco E che sono molto concentrato E finisce il primo tempo Su punteggio di 1-0 Devo segnare assolutamente Perché se no questi vengono a fare E mi dicono Tiè Tiè Ah no Non male Tiè Gol Ma vaffan Ma vaffan Devo stare zitto Ma vaffan Cuore Sì Castello Così a caso E andiamo 2-2 Non me l'aspettavo per un K Però ci siamo Non vi ho ripreso Camaccio Camaccio ne salta 1 Camaccio ne salta 2 Camaccio La passa Ed è carce di rigore Ma come Mi ha messo giù Cretino E finisce la partita 2-2 Un punto Ma meglio che 0 Devo fare ciò Che nessun uomo E mi è riuscito a fare Cioè Almeno non lo so Però va bene Il paraguai No Mi porta solo guai Uuuuh Kakung è salita 72 Incredibile Malaga contro Real Zaragoza Dobbiamo giocare come non mai E lo dobbiamo fare bene Perché giocare come non mai Non vuol dire male Ma che cos'è Arizala Ok Ok Camaccio Ok Camaccio Ok Camaccio Ok Camaccio Ma porca va Arizala La crossa In mezzo Per la testa Di parata Porca trospata No 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 Oh mio Dio Arizala No Cos'era No 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 Ma sai Non si sa arbitrare Modalità campione Non danno i palli Modalità campione Finisce il primo tempo 1-0 per loro Sì Ok Mi sa che devo salutarvi da qui Mi aveva illuso la prima partita Sinceramente ho detto Vabbè dai 5-1 Le altre partite dovrebbero essere facili Ecco Attenzione stanno per fare il terzo gol o non lo fanno Calcio di rigore per me Papababacar 2-1 Ma tanto non serve a nulla E finisce la partita 2-1 per loro Verrò cacciato anche dal Malaga Ultima partita col Malaga Malaga-Barcellona Quanto perderò Perché potrei perdere anche troppo Sono ancora 0-0 dopo 16 minuti È una cosa incredibile Non mi viene messo per Camacho 1-0 Incredibile ma inutile Primo gol in campionato Volevo farlo all'ultima partita È giusto Ma davvero sto vincendo Cioè a me basta questo eh Non mi viene messo per Arizala 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 Palo Te pareva Papababacar Papababacar Eh vabbè lasciami andare Fine primo tempo Su punteggio di 1-0 Per me è incredibile Messi Ciao Messi Ciao me Mi fai un autografo me No Oh mamma Beccate il palo Quanto godo Aia E che Oh Palo ancora Godo Tu sbatti il calcio D'angolo Traversa E vinciamo contro il Barcellona Ehm Però non siamo arrivati i sesti Premio torne 8 milioni Questa sarà la riunione che mi caccerà Per due punti non andavi in Europa Le cose non sono andate secondo le previsioni Ma sapevamo che non sarebbe stato facile La dirigenza si riunirà nei prossimi giorni per esaminare la sua posizione all'interno del club Sono rimasto al Malaga Ma a me non piace Me ne vado Ciao Me ne vado a Napoli 10 milioni per Camacho Accetto immediata Anzi Camacho ha fatto gol contro il Barcellona Adesso lo vogliono tutti 13 milioni Sono a 31 milioni Napoli non me vuole È semplice Se ne sono andati un po' di giocatori Perché non gli ho pagato il contratto Ma non avevo soldi E allora rimarrò al Malaga Con 31 milioni di crediti Cosa posso farci? Ditemi i giocatori da comprare E ciao a tutti